Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana. L'aula si è riunita il 31 gennaio e il 1 febbraio. Ecco i temi che affronteremo in questo nostro incontro. Parleremo della commissione inchiesta dei vaccini, c'è stato un dibattito proprio in aula sulle relazioni finali della commissione. E poi il punto invece sulla vicenda Cheu con l'assessore Monia Monni che risponde in aula all'interrogazione su questa vicenda. E poi andremo a Sant'Anna di Stazzema dove il Parlamento degli studenti della Toscana è andato in visita assieme al presidente del consiglio regionale. Il primo argomento che trattiamo insieme è il dibattito fiume che si è tenuto in aula del Palazzo del Pegaso sulle relazioni finali di maggioranza e minoranza sulla commissione di inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia e in particolare della campagna vaccinale in Toscana. Un filo rosso ha caratterizzato i diversi interventi ovvero il ringraziamento al lavoro della commissione insieme al Pauso per tutti coloro che si sono spesi nell'affrontare una pandemia che per la sua straordinarietà ha colto di sorpresa dagli operatori della sanità al volontariato per arrivare poi a ogni cittadino toscano. Poi ascoltiamo anche quelli che sono stati tutte le altre interventi da parte dei consiglieri regionali. Ascoltiamo. Stamani è stata la dimostrazione nel dibattito e nella evidenziazione dei temi di quanto la Toscana sia stata complessivamente brava a gestire un momento così delicato e difficile quale la pandemia. Da un'organizzazione che non esisteva perché l'ultima pandemia era stata più di cent'anni fa. La spagnola dal 1918 al 1920 abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%, il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più. Ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid, una riorganizzazione profonda alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente per usare un termine assolutamente in voga nei nostri giorni, chiaramente potendo contare su un sistema articolato che ha saputo dare risposta analoga e basandosi sia sugli operatori sanitari, sul mondo del volontariato ma anche sui sindaci, sul sistema delle farmacie, sui medici di medicina generale pediatri libera scelta e oggi ancora oggi vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale con una copertura di vaccinazione molto importante e anche con un'efficacia attraverso il lavoro degli AB e dei medici di medicina generale ha saputo raggiungere capillarmente ogni porzione del nostro territorio. L'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver e su questo la Regione Toscana non ha fatto niente e poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Io purtroppo ho dovuto anche abbandonare l'aula durante il mio discorso davanti all'ilarità da parte dei colleghi della maggioranza che non è tollerabile davanti alle morti e al rispetto che si deve di fronte a questa situazione. Se non ci fosse stata questa commissione di inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione, l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo. Quello che è fondamentale in una fase emergenziale è la gestione del panico della popolazione. Tutto questo non è stato fatto. Il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale, di tutto il terzo settore di questa Regione Toscana che è un patrimonio, una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore della rete ospedaliera con il territorio partendo chiaramente dagli ospedali di periferia, di lavorare chiaramente in attesa degli interventi del governo sulla carenza di personale, la formazione del personale e la dislocazione di questo personale. Però un punto fondamentale serve perché abbiamo riportato al centro tutta questa storia il cittadino e il toscano. C'è l'esigenza anche di tornare a formare ed educare il toscano sotto i profili dell'alfabetizzazione e della digitalizzazione e anche della capacità sostanzialmente di poter avere dei riferimenti di chiari in situazioni come queste che chiaramente aspettiamo non si verifichino più. Partendo dalla Toscana si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione di inchiesta perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate, nel mentre il volontariato e i medici davano tutto a se stesso per aiutare gli altri c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri e questo va messo alla luce, va fatto una commissione di inchiesta con poteri parlamentari quindi dalla Toscana dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente di inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte. Un elenco dettagliato degli interventi messi in atto dalla regione nella vicenda Cheo, il Cheo lo sapete è un residuo di produzione derivante dal trattamento di fanghi prodotti dagli scarti della concia e delle pelli, ha interessato se ve lo ricordate tutto il tracciato almeno quello in Val d'Irsa Fiorentina della strada regionale 429. Bene, questo elenco è stato consegnato dall'assessore all'ambiente Moniamonia, consigliere regionali, come parte della risposta a un'interrogazione in merito all'attività di monitoraggio che è stata presentata dal consigliere del Partito Democratico, Francesco Cazzetti. Nell'interrogazione si chiedeva anche di sapere quali siano le attività portate avanti ma soprattutto a che punto si trovi l'attivazione della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche da parte del governo. Le parole dell'assessora Monni, che ringrazio perché ha offerto all'Aula una ricognizione precisa, puntuale, a nostro modesto avviso vanno in una direzione esattamente opposta. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti. La volontà della Regione Toscana di costituirsi parte civile, l'appello tra l'altro. Ecco, questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter, per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto, anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessora Monni, così come annunciato in Aula in Consiglio regionale, penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione Cheu con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle Toscane e dei Toscani. La preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti Cheu abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da Arpat e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca, nel corso degli anni. Si parla dal 2014 in poi che all'improvviso si sono dimezzati, sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità. Significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da Arpat perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche, partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni, però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa. Siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la Regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati. I tre sono i siti che coinvolgono la Regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi, con personale a disposizione veramente limitato, che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione e poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti. Il procedimento della magistratura è ancora in corso, le indagini preliminari sono chiuse, però ancora non abbiamo notizie in merito. Quindi fondamentalmente tante parole, però pochi fa. La Toscana e i Toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse, che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi, insieme al nostro capogruppo Torselli, a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale, perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il Governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo venerdì 3 febbraio ha accompagnato i giovani componenti del Parlamento degli studenti al Parco della Memoria che ricorda la terribile strage del 12 agosto del 1944 compiuta ai militari delle SS contro la popolazione civile a Sant'Anna di Stazzema. Mazzeo ha ricordato le figure di Enrico Pieri e Cesira Pardini sopravvissuti alla strage e recentemente scomparsi. Noi riteniamo questo luogo un luogo simbolo della democrazia della nostra Repubblica e abbiamo la necessità di continuare ad investire, ad investire ancora di più dopo che le ultime voci che potevano raccontare la barbaria di quel tempo, penso a Enrico Pieri, penso a Cesira Pardini a cui va il nostro grazie più sincero per aver coltivato la memoria e a noi il compito di essere insieme alle ragazze e ragazzi della nostra scuola amplificatori di memoria e questo è un luogo che segna la disumanità di quel tempo, segna le barbarie subite da tante donne e da tanti uomini, è un luogo che però segna anche la riscossa civile del nostro paese perché qui la resistenza è proprio il simbolo di un'Italia che voleva farcela. È necessario appunto ricordare quanto avvenuto proprio come un forte richiamo alla conoscenza storica, alla conoscenza di questi fatti tragici che portarono via la vita a tantissimi ragazzi non solo della nostra età ma anche a tanti bambini eppure una piccola bambina di 20 giorni che è la più piccola vittima di questa strage che quindi noi oggi ci impegneremo a ricordare per comunque dare voce a tutti gli studenti della Toscana che sono vicini a quanto è successo soprattutto per ascoltare le ultime voci dei sopravvissuti tra cui Adele Pardini che abbiamo la fortuna di avere qui oggi con noi proprio per un momento di ricordo di quanto è accaduto. Stavo in località Coletti, quando sono arrivati i tedeschi stavo facendo collazione in una bambinaia, erano una trentina di persone, si hanno preso, si hanno messo al muro, cinque sorelle e la mamma che aveva in braccio la piccolina di 20 giorni, la mia mamma e un'altra mamma si erano state ammazzate con la pistola, noi siamo quella medagliatrice, la mia sorella che aveva 18 anni, Pardini Cesira, si è aperta una porta dietro di noi e si è portata in questo fondo e così ci siamo salvati. E per questo nostro appuntamento è tutto, per tutti gli aggiornamenti e le informazioni vi ricordo il sito www.ineconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento tra sette giorni sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie a tutti! Grazie a tutti.